Dio, la tua benedizione in questo locale, così come già lo era, Dio, quando loro facevano culto a Te. Noi, Signore, vogliamo, Dio, fare culto a Te in questo locale. E siamo qua per mettere, Dio, una pietra di altare a Te in questo momento, Signore, chiedendo a Te la direzione, che Tu ci possa dare la direzione, Dio, nella trattativa, Dio, negli accordi di quel pastore, il pastore Michele, Roda, Signore, che ci sia la tua benedizione su di Lui e su di noi, che ci sia la benedizione sul tuo popolo, che si raduni da Lui, che si raduni da noi, che ci sia, Dio, la benedizione, Dio, sulla vita del pastore Giugno, Dio, affinché lui possa avere saggezza, affinché lui possa avere direzione da Te, per parlare anche col tuo popolo, che si raduna già a San Giuliano, Signore, che Tu possa comuovere e toccare nel cuore di ognuno, Dio, dei Tuoi servitori. Così come Davide diceva una volta, Signore, lui ringraziava a Te, Dio, perché Tu hai toccato il cuore del tuo popolo, per offertare alla Tua opera, per offertare affinché fosse costruito di un vocale, un tempio di lodi e adorazione a Te. Così noi già ti chiediamo, Signore, che il cuore del tuo popolo sia, Signore, sia toccato, sia, Signore, sciolto, sia, Signore, verso di...